Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo. Oggi rispondo ad una signora di Tokyo, Giappone, che mi fa questa domanda. Dottore, mi spiega un attimino per suo padre colpito da ictus prima del 2008. E la storia che ho letto, ho sentito, ma se vuole un attimino rispiegarmela. Mio padre fu colpito dall'ictus e per quasi un anno e mezzo o due un ictus fulminante che lo ha paralizzato per la metà a destra del suo corpo e per circa un anno e mezzo o due era rimasto nel suo letto sviluppando piaghe di decupito in tutto il corpo perché non voleva più vivere di fatto. Era caduto in una depressione cronica, tutta la parte destra era paralizzata, aveva smesso di vivere mio padre che aveva un'energia incredibile perché faceva parte di un'altra generazione, senza cellulari, senza ascensori, senza autovetture e compagnia bella. Allora che succede? Che da prima all'epoca ero ipnotista autodidatta, provai ad ipnotizzarlo, riuscii a mandarlo in una trance profonda, mi spaventai un attimino, mi fermai perché a un certo punto non sapevo cosa dire, usciva acqua dal naso. Io adesso lo so che tu mi prenderai per un cialtrone, per uno che racconta storia, ma questa è la vera verità e la predicherò finché sono vivo. Poi dopo chi crede in se stesso e nel proprio potere mentale mi capirà, chi non crede in se stesso e nel proprio potere del subconscio, della propria mente, farà la sua strada. Al che, non gettando la spugna, scrissi un'email in tutte le lingue, in tutto il mondo, a tutti gli esperti di ipnosi, anche medica, anche medica, che però tutti all'unisono rispondevano no, 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 non c'è nulla da fare, neanche luminari dell'ipnosi medica moderna. Non contento, mentre stavo per gettare la spugna, vedo su uno dei miei tre computer in ufficio un'email da Los Angeles, della dottoressa Rina Prunini. E lì ho esclamato, wow, leggendo, perché mi scriveva, qui a Los Angeles abbiamo aiutato e aiutiamo tanti casi di paralisi, ictus, autismo, epilessia, Parkinson, Alzheimer, cancro, eccetera, eccetera, casi impossibili di fatto, con ottimi risultati. E io ho esclamato, wow, ma cosa dice, non avevo mai letto né arrivato a queste conclusioni, per cui ho domandato quanto costava, quanto non costava, cosa bisognava fare e iniziamo. In 30 minuti, la prima sessione online, su Skype, a più di 11.500 km di distanza online, allo schiocco delle dita della dottoressa Rina Prunini, mio padre si alza, come impossessato da una forza spiritica, che poi in realtà era la sua energia mentale, ed va in cucina, obbedendo all'ordine della dottoressa Rina Prunini. da mia madre, da sua moglie. Rannicchiato così, zoppicato, ma cammina da solo. E considera che avevamo portato mio padre in salotto davanti a questo computer ciofeca nel 2008, una connessione ciofeca, eccetera, eccetera, mio padre non parlava, non ascoltava, non faceva nulla, e la dottoressa Rina Prunini, mentre si faceva il latte, il latte o il tè, non lo so, in questa tazza americana, e si sentiva il cucchiaino sulle sponde della tazza, che io intravedevo dalla webcam, e mi chiedevo, ma si può ipnotizzare in così? E invece si può, ragazzi, si può, è alla grande. Tutte quelle cose che vedi in giro, tutta quella fuffa. Comunque mio padre, da quel momento per due anni, ho fatto l'assistente alla dottoressa Rina Prunini, ho studiato anche con lei, ho costruito un master a Los Angeles di ipnosi, vera e professionale con la B maiuscola, su cui ho fondato il mio metodo, metodo di CS unico al mondo. Non lo dico, lo dico a ragion veduta, perché funziona anche per bambini, adulti, anziani, che non vogliono, non possono essere aiutati. Se solo se segui la lettera, le istruzioni, allegate, molto facile, la prova di un nonno, la prova di un idiota, la prova di un pigro, per qualsiasi problema, anche per molti, senza neanche fare sessione online di ipnosi di CS, vera e professionale con la B maiuscola, che al momento sono anche sospese per problemi di tempo, di impegno e perché sto lavorando da altri progetti. Ti prego di non credere a nessuna parola del sottoscritto, devi credere al potere della tua mente, al potere della mente del tuo caro e fare azione. Azione anche magari scaricandoti un audio mp3 di CS dal sito della mia associazione di proroggi associati, di cose che può fare per te oppure per il tuo caro. Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi autipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere, ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino, e facer condividi con amici e parenti, perché vuoi essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita, e seguimi anche sui altri social, Instagram e Twitter, ipnosi di CS, benessere ipnosi, soluzione, del dottor Claudio Saracino. E conclusione delle conclusioni di mio padre, vissuto per altri dieci anni, con il bastone, zoppicando, ma era tornato alla vita, a parlare, a scherzare con gli amici, quelli che erano rimasti, che mio padre aveva una certa età, è scomparso qualche annetto fa, e a cercare sua moglie, incredibile, all'età di 82 anni. Ok? Non credere a nessuna parola, se non vuoi scaricarti Audio MP3 di CS, per capire come funziona la tua mente, o la mente del tuo caro, puoi anche andare da un professionista dell'ipnosi, della tua zona, della tua città, a qualsiasi parte del mondo, in cui abiti, in questo momento, a iniziare, anche se lui non utilizza l'ipnosi di CS. L'importante è che abbia già affrontato casi di paralisi, di ictus, di ischemia cerebrale, come con mio padre, più che altro, per non spendere soldi a Tmincham. Ok? Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente, mi riempio impegno. Un bacio, un abbraccio dal dottor Claudio Sarascino, e alla prossima. Alla tua, ciao.